Seconda giornata per i campionati di pallavolo FIPAV. Il volley club Sciacca torna in campo nel fine settimana, sia con la squadra maschile sia con quella femminile. Nel campionato di Serie C maschile, girone A, la squadra guidata dal tecnico Enzo Graffeo giocherà nuovamente in trasferta a Mazzara del Vallo contro l'SP Auto. La partita è prevista sabato 12 novembre con inizio alle ore 17.30 presso l'impianto Giuseppe Grass di Mazzara. I saccensi, dopo la netta sconfitta dell'esordio, puntano al riscatto contro una squadra che sembra più alla portata dei giovani di Graffeo. Sicuramente la preparazione cominciata in ritardo e l'incertezza dovuta alla mancanza di un impianto idoneo in cui disputare le partite casalinghe hanno contribuito a rendere difficoltoso questo avvio di stagione agonistica. Nel campionato di Serie D femminile girone A, invece, il Valle Club Isciacca ospiterà il New Gica di Monreale. Il match si disputerà, anche in questo caso, sabato 12 novembre con inizio alle ore 17 presso il Pala Unità d'Italia di Castelvetrano, struttura che è stata individuata al momento per permettere alle formazioni saccensi di giocare le partite in casa. Incredibile come a Isciacca non vi sia alcuna palestra pubblica o privata che abbia i requisiti federali necessari per permettere alla società locale di giocare il campionato. Anche la squadra femminile cerca il riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa. E passiamo alla Palla Canestro. Sabato 12 novembre sarà il momento di dare il via anche al campionato Under 15 per la Icaro Basket Officine della Neli di Sciacca. La società del presidente Giovanni Monastero comincerà il campionato Under 15 con il primo impegno agonistico previsto in trasferta a Mazzara del Vallo. Domenica 13 novembre invece esordio per la Icaro Basket Sciacca pure per quanto riguarda il campionato di promozione. Anche in questo caso la prima partita in calendario è prevista in trasferta ad Erice contro la squadra trapanese. Under 15 è promozione che quindi potranno avviare i rispettivi tornei dopo i numerosi allenamenti delle settimane precedenti. Proseguono l'attività agonistica e formativa anche le altre categorie degli aquilotti, scoiattoli e mini basket.